Dialoghi e trattative in fase di allestimento, prima dei movimenti ufficiali veri e propri. Il Pescara pone le basi per il campionato del riscatto e la dirigenza del Delfino è all'opera per consegnare a Zeman giocatori da plasmare nel suo progetto calcistico. Per l'attacco sono in corso colloqui con il Milan per il prestito di Luca Vido. L'attaccante classe 97 ha disputato un bel finale di stagione col Cittadella e potrebbe migliorarsi sotto la cura del tecnico Boemo. Se Vido è la classica prima punta ben strutturata fisicamente, nel calcio di Zeman hanno un ruolo fondamentale i due esterni. Già fatta da tempo per Mancuso dalla San Benedettese, il Delfino è vicinissimo al fratello d'arte Roberto Insigne che potrebbe ricalcare le orme di Lorenzo in rival adriatico. Insigne cerca la stagione della svolta dopo l'annata condita da alti e bassi a Latina. In tal senso sono arrivati segnali confortanti dal Napoli, club di appartenenza di Roberto Insigne, visto che il presidente dell'Aurentis ha dichiarato che avrebbe piacere di dare a Zeman il calciatore ed anche il manager di Insigne Junior, Ottayano, ha espresso pieno gradimento per la destinazione adriatica. Da un partenopeo ad un altro, nel merino del Pescara è finito anche Antonio Bacio Terracino, altro profilo ideale per il calcio zemaniano. È stata una delle poche note liete della stagione del Lumezzane, appena retrocesso in D dopo il play-out con il Teramo. Reduce da una buona stagione con 9 gol all'attivo, Bacio Terracino si svincola dalla compagine bresciana. Su di lui ci sono gli occhi anche di altre squadre, fra cui il Bologna. Sempre per l'attacco, sondaggio con l'Atalanta per Giuseppe De Luca e per il giovanissimo classe 99 Cristian Capone, mentre gli orobici a loro volta hanno chiesto informazioni su Mamadou Koulibaly, per il quale però già sono stati aperti dei canali con Juventus e Milan. Sempre dal Milan, ma per il reparto di centrocampo, l'interesse è forte per Matteo Pessina, che quest'anno il club rossonero aveva girato in prestito al Como in Lega Pro, distinguendosi per un ottimo rendimento e per un cospicuo apporto in zona gol, con 9 reti in 35 partite. Un altro giovane ideale, classe 97, da poter far crescere sotto gli insegnamenti di Zeman. Grazie.